20 anni dopo il loro primo incontro a S.T. Andrews, il principe William e Kate Middleton visiteranno l'università durante un tour di sette giorni in Scozia. Incluso l'incontro con gli studenti attuali il duca e la duchessa di Cambridge si imbarcheranno in un tour della Scozia come parte di un nuovo ruolo per Guglielmo consegnatogli dalla regina. Punto. Il principe darà il via al suo nuovo lavoro come Lord Alto Commissario all'Assemblea Generale della Chiesa di Scozia venerdì con Kate che si unirà a lui dal lunedì al giovedì. Insieme visiteranno Edimburgo e Fife, oltre a intraprendere il loro primo viaggio ufficiale congiunto alle Orcadi. Vent'anni dopo il loro primo incontro all'università, faranno entrambi un viaggio nella memoria visitando S.T. Andrews per incontrare gli studenti attuali e ascoltare come si sono affrontati e sostenuti a vicenda durante un anno difficile. Dalla crisi del coronavirus i tour reali, così spesso il fondamento del calendario dello studio in tutto il mondo, sono stati cancellati. L'ultima volta che la coppia è stata in grado di unire le forze per un mini-tour è stato poco prima di Natale. Quando hanno organizzato diverse uscite nell'arco di tre giorni a bordo del Royal Train attraverso l'Inghilterra, la Scozia e il Galles per ringraziare il lavoro instancabile del nostro NHS e l'assistenza in prima linea eroi del personale. Fonti reali hanno affermato che il futuro re e regina non vedono l'ora di incontrare un'ampia varietà di persone in tutto il paese. Così come enti di beneficenza e organizzazioni che stanno facendo un lavoro incredibile su questioni come l'ambiente, la salute mentale, i senza tetto e la dipendenza. Nominato al ruolo di lord alto commissario dalla regina. William, 38 anni, svolgerà compiti cerimoniali inclusi i discorsi alle cerimonie di apertura e chiusura dell'Assemblea Generale della Chiesa di Scozia. Come per ogni elemento della vita nell'ultimo anno, la Chiesa ha dovuto cambiare e adattare il modo in cui sostiene le proprie congregazioni. Il duca trascorrerà una giornata ascoltando come le associazioni di beneficenza associate alla Chiesa di Scozia si sono riunite nell'ultimo anno per provvedere alle loro comunità locali nonostante la distanza fisica. La coppia ospiterà anche diversi eventi durante la settimana per ringraziare le persone che hanno fatto di tutto per sostenere le loro comunità nell'ultimo anno, tra cui il personale dell'NHS, i lavoratori in prima linea, i soccorritori, i volontari e le forze armate.